allora io non voglio stare qui a parlare del corona minchius ma già da come lo chiamo già capite che cosa ne penso non voglio stare a bisticciare se è vero o non è vero lo capite già da come lo chiamo quello che mi interessa è farvi capire che cos'è il nadit il nadit è dire no alla dittatura italiana va bene sei contento di essere agli aressi domiciliari io no sei contento di usare una mascherina che sembra il burca del 2020 io no se anche tu la pensi come me unisciti al nadit no alla dittatura italiana non è politica non è un movimento ma è solo dire voglio la mia libertà quella che mi state togliendo svegliati che vi stanno inculando a sangue e manco ve ne accorgete state lì a fare stronzate su tutti i social con mascherine stronzate a postare i video chi esce chi non esce chi esce chi non esce esci cazzo esci che ti stanno inculando ti stanno inculando ricordati queste parole ti stanno inculando la libertà tua dei tuoi figli dei tuoi cari basta farsi prendere per il culo è ora di svegliarsi buona giornata a tutti